Buongiorno, nonostante l'emergenza del coronavirus, noi di CDS siamo aperti anche in questo periodo difficile. Infatti tra i nostri clienti ci sono aziende che producono apparecchiature medicali che servono proprio in questo momento ad implementare la ricettività delle strutture ospedaliere. Noi facciamo i quadri elettrici che servono per far funzionare queste macchine medicali e siamo orgogliosi di questo anche perché è l'occasione oltre che per essere utili alla nostra società, alla nostra città e al nostro sistema sanitario, serve anche per i nostri ragazzi che comunque soprattutto quelli che sono più avanti nel percorso formativo ci stanno dando una grossa mano e questo li responsabilizza ulteriormente perché si rendono conto che ci si può dare da fare per per migliorare la società anche attraverso il lavoro ed in particolare in questa situazione così difficile che la nostra società sta vivendo. Grazie